Visto che siamo a Venezia, la capitale del Veneto, come dice il sindaco Brugnaro, visto che siamo a Venezia, voglio dire che io guardo davvero con interesse, con rispetto, con disponibilità a questa discussione che si è aperta in seguito anche ai referendum sul tema dell'autonomia, della possibilità su alcune materie di fare dei passi in avanti sul terreno delle autonomie su alcune funzioni da parte delle regioni. Il Governo è pronto a un confronto di merito su queste questioni. Alcune funzioni possono essere rese più efficienti da un maggior ruolo autonomo delle regioni? È possibile, anzi è probabile e discuterne è utile per il Paese. Vedremo quali funzioni, vedremo a quali condizioni. Chiunque conosca l'amministrazione pubblica sa che sarà una discussione complessa, non una cosa che si fa in cinque minuti con due battute, ma siamo pronti a fare questa discussione, ovviamente nei limiti fissati dalle nostre leggi e dalla nostra Costituzione. Deve essere molto chiaro che quello di cui si discute è l'efficienza del nostro sistema, si discute di come far funzionare meglio l'Italia, non si discute dell'Italia, tanto meno della sua Costituzione, almeno in questo confronto. Ma il confronto è utile e il Governo avrà da questo punto di vista la massima apertura.